amici ne come va benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale ragazzi io sono luca e oggi volevo darvi un altro paio di informazioni riguardo l'alimentazione e l'illuminazione bene ragazzoli vabbè come sapete le patine sono sempre presenti in questa vaschetta però non ci preoccupano più di tanto abbiamo fatto dei frag e le di zoanthus tanto è vero che abbiamo risistemato un po tutto abbiamo fatto dei frag e la vasca ragazzi gira sta girando ovviamente adesso ragazzi stiamo vedendo tutto con luce bianca cioè o meglio mi spiego con la lente però altrimenti con il blu non vediamo niente si vediamo le florescenze non si vede nulla e ovviamente come vedete ho posizionato quei corallini che abbiamo visto nel video passato che mi erano arrivati qui le florescenze qui la pacman che stanno abbastanza recentemente devo dire adesso è difficile farvi vedere le colorazioni però ci sono ci sono delle alghette ragazzoli ma fin quando non mettiamo appunto un filtro d'alghe sotto o un similari quindi un ats sarà un po difficile gestire bene tutte queste alghe questa spatolata rainbow che ovviamente adesso non riesco a mettere a fuoco bene qui tutti abbastanza bene la red planet ci arrivo tempo tempo addietro sta bella spolipata sta crescendo sta mettendo diciamo base da tutte le parti questa è quella che ora che mi entro tempo addietro che come sapere crescendo anche lei corallini da tutte le parti quanti abbiamo la raspberry shot cake vediamo se la riesco a mettere a fuoco eccola lì ci sono un po di alghette ragazzoli di questi ciuffetti dal ghetta verde però è purtroppo come vi dicevo fin quando non abbiamo un qualcosa sotto che mi ciucci un po di alghette è normalissimo questa è una anche se mi sembra bianca o meglio sembra bianca dalla dall'illuminazione che c'è adesso ma è giallina non so se forse senza lente si vede meglio no vabbè veritano però c'ha dei riflessi gialli e questa è una false pacman è totalmente gialla non so che agropora è nello specifico però non è bianca non è sbiancata è semplicemente appunto la colorazione del corallo e il resto dei corallini come sapete tutti abbastanza decentemente sempre in crescita quindi ottimo io ragazzi non sto facendo nulla in questo periodo a breve arriverà anche l'aggiornamento faremo anche l'aggiornamento della vasca generale però fondamentalmente in questo periodo non sto facendo nulla sto solo monitorando i parametri e che essi siano sempre corretti e detto questo ragazzuoli volevo parlare appunto di relazione fra illuminazione e nutrienti in vasca ok alimentazione e c'è il video ovviamente che abbiamo fatto quel video un po lunghetto che è uscito tempo fa sul sulla sull'alimentazione però ragazzi volevo essere più specifico su con voi anche per quanto riguarda la relazione fra illuminazione e nutrienti in vasca come dicevo anche in quel video i nutrienti abbiamo un acquario che ha nutrienti in vasca possiamo permetterci di alimentare leggermente meno la vasca perché perché i coralli riescono comunque a sfruttare e gli NO3 ovviamente non i coralli in sé però le zosante le riescono a sfruttare gli NO3 più 4 presenti nella vasca per effettuare la fotosintesi adesso se vogliamo che questi elementi vengano vengano assorbiti rapidamente dai coralli quello tutto quello che dobbiamo fare ragazzi è mettere più potenza alle nostre plafoniere esempio mi spiego se abbiamo 10 ppm di nitrati e 0 8 di fosfati possiamo aumentare la potenza dei canali bianchi dei canali blu dei canali rossi e dei canali verdi per far sì appunto che ci sia un maggiore una maggiore diciamo potenza in vasca per quanto riguarda appunto quella che mettiamo attraverso le luci e di conseguenza stimoliamo molto di più le zosantelle diciamo nell'assorbimento per quanto riguarda la fotosintesi oltre a questo ragazzi le luci bianche sono importanti per la crescita anche se appunto ci hanno abituato a dire che le luci bianche sono pericolose le luci bianche sono importantissime per quanto riguarda la crescita e soprattutto per l'ossidazione in vasca è uscito poco tempo fa anche un video per quanto riguarda il redox e l'ossidazione e anche loro le luci ci aiutano con l'ossidazione in vasca quindi possono diciamo riuscire a dare quel po pochino di ossidazione in più per far appunto scatenare tutte le reazioni per quanto riguarda l'ossidazione in vasca se abbiamo una vasca magra ok quindi zero fosfati zero nitrati è normale che non possiamo spingere con le luci soprattutto le bianche perché perché appunto stiamo dicendo al corallo di cibarsi anche se abbiamo kh bassi però se spingiamo con le luci stiamo costringendo il corallo diciamo effettuare la fotosintesi quando poi nell'acqua non ci sono gli elementi essenziali per effettuare la fotosintesi come anche neo 3 e più 4 oltre la co2 ovviamente quindi diciamo la relazione con anche l'illuminazione e l'alimentazione diciamo dipende molto dai nutrienti che abbiamo in vasca quindi a più nutrienti io onestamente vi consiglio di spingere di più con le plafoniere ovviamente non vi sto dicendo di passare da un 20 per cento a un 70 per cento di colpo però comunque potete aumentare gradualmente se per esempio avete 20 per cento potete aumentare 25 30 per cento 35 per cento per stimolare di più i coralli sia per quanto riguarda la crescita sia per quanto riguarda appunto l'assorbimento di eneo 3 e più 4 ragazzoli io sto appunto con fosfati erano bassini però adesso siamo più o meno 004 già sono riuscito ad alzarli un po però i i nitrati siamo costanti a 5 ok dovrei avere un casino di alghe in vasca si c'è qualche al getta ripeto e non è che sono privo di al gette c'è qualche al getta da qualche parte ma ragazzoli c'è come hanno sempre detto nitrati a 5 nitrati a zero perché altrimenti al che muoiono i coralli ma invece ragazzi nitrati a 5 coralli tutti belli colorati colorazioni verde i blu rosse rosa la dietro con le sfumature verdi viola lì rosa blu qui sotto giallo quindi insomma ovviamente non voglio dirvi di mettere la vostra vasca a 5 10 ppm di nitrati però comunque appunto diciamo che ci sono fortunatamente gli studi che ci aiutano con con queste cose e appunto come dicevo è molto molto relazionata l'intensità di luce con la fotosintesi che effettuano coralli e anche i nutrienti a disposizione dell'acqua come vi dicevo appunto con una maggiore diciamo esposizione dei coralli alla luce possiamo appunto alimentare di meno ovviamente avendo più nutrienti in vasca e spingere di più con le luci mentre appunto se abbassiamo questa intensità luminosa data dalle plafoniere ai nostri coralli e abbiamo livelli di nutrienti bassi è meglio mantenere uno spettro meno potente quindi non andare diciamo con troppi par a spingere sui coralli non avendo appunto questi nutrienti in vasca che possono essere fonte di alimento in alternativa se si spinge con le luci parecchio durante il corso della giornata però si hanno anche nitrati e fosfati bassi e notate che i coralli vivanno in stn o vivanno in foto inibizione cercate intanto di gestire la luce sotto quel punto di vista ma anche provate a dare più alimentazione tramite polipo ai coralli ok in modo che appunto li riusciate a mantenere diciamo in salute sotto quel punto di vista e ma la massa e gente come dico sempre spero che questo video vi sia stato utile ci vediamo a breve con alcuni video nuovi molto probabilmente arriverà una novità nel canale metteremo un anetto vabbè poi lo vediamo è nata ma se gente come dico sempre spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video